andiamo al 6 andiamo al 6 forza andiamo al 6 ti ricordi dov'è no? ahia mamma mia quando mi faccio male così ebbene mi fai fare l'intro? certo fai pure guardiamola così dall'angolino dentro le ragazze sono le vostre mina e mina c'ho questo essere grizzly, yeti che mi sta seguendo vedete è verde dove sono andata a finire aiuto aiuto mi sta dietro mi sta dietro aiuto mi sta dietro dobbiamo andare alla porta 6 6 oggi è il 6 domenica 6 è domenica 6 siamo al 6 siamo al 6 ragazzi siamo al 6 1 no io ti seguo anche qui non era al 6 6 era di là senti che sei venuto qua e ma te te lo ricordi dov'è? era sotto al 3 sotto al 3 e il 3 era qui 3 era no non qua no no dicevo qui di qua no 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 dicevo ascolta dicevo qua dicevo dicevo qua dicevo qua dicevo qua dicevo qua dicevo qua il 3 era sotto quindi bisogna andare sopra doveva essere qua sopra il 6 è qui 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 oggi il nostro bellissimo calendario aspetta ferma 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 innanzitutto innanzitutto guardiamo dietro se c'è qualcosa qualche regalino perché ormai ragazzi sappiamo che... fare il diciamo... ma poi... cioè noi ci domandiamo perché è difficile ma è cioè deve essere semplice un canale dal vento cioè perché c'è una riga gigantesca cioè il creatore della mappa ragazzi diceva no tanto questa riga non la noteranno mai non la facciamo non la facciamo i blocchi messi a caso vabbè a 13 che ha fatto solo tutta questa cosa qui intorno ma vabbè no io non sarei tanto d'accordo leggiamo cosa dice qui all this present but which is yours ma è tuo only time with solo il tempo te lo può dire ho paura di questa cosa non solo ora via non capisco perché cosa vuol dire alcuni non li puoi aprire ma forse perché sono non sono pacchi esatto quelli rossi sono pacchi no guarda anche quelli verdi alcuni quelli verdi dopo quell'altro sono slab ganze di slab dove è ganzissimo ok c'è qualcosa c'è ora di sicuro ragazzi noi lo troveremo oddio dove sei dove sei dove sei te lo dico fermi fermi non te lo dico pilari ha aperto questo eccolo petta ho trovato un regalino eccola ho trovato un regalino vedi se cosa diceva qui certo ti indicava il tempo regalino hai trovato che figo vedi c'erano le frecce che ti indicavano dove la direzione dov'era il regalino era in questo ma me lo sono già preso io qui ah vedi c'erano le frecce ganzissimo qui c'è qualcosa d'altro ma non è che cassino di 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 ho nell'orecchia di queste cavolo di casse ok quindi è finito ma io continuo ad aprire le pietre si si va a aprire tranquillo fai tutto quello che vuoi fai tutto quello che vuoi tanto non è che mi dai noia no no tranquillissimi vai vai continua 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 ma quando esci devi chiudere le porte no non bisogna chiudere perché abbiamo aperto abbiamo aperto il giorno sul calendario dell'avvento devono essere aperte le porte perché bisogna far vedere che appunto sono state aperte come quando te apri il calendario d'avvento quello di carta che c'hai a casa e dentro c'è cioccolatini cioccolatini te hai mangi cioccolatino e non chiudi la porta dice oh bisogna chiudere la porta perché quello che cavolo è va bene quello che cavolo è dove stai andando? no scusate c'è c'è il mio no via è giorno o è notte? no no spiegatemi oh che fighe l'è spiegatemi che figa la cascata ma te pensi al cascato ma c'è c'è l'orologio che i bug di minecraft ragazzi è normale che faccia così? io non mi ricordo cosa di facciare ma è nel giorno o nel notte tanto siamo dentro va bene sesta ci siamo? perfetto regalino sotto l'albero subito andiamo via now che bella pecora proprio sono belle oddio vuole andare dentro l'albero no ragazzi cioè sono sono belle no sono belle è bellissime proprio fatte bene cioè solo per questo questa guarda ti segui come l'hai chiamata la tua amica? ma guarda tienitene è tua insomma io metto il regalino metti il regalino qui qui butto via questi cavoli sapling perché tanto non me ne faccio l'uomo dove l'hai messo? qua l'hai messo in fine alla parte insomma il nostro albero al secondo livello è pronto abbiamo otto regalini quindi non erano o prima erano sette non erano otto però siamo al sesto quindi siamo già più due che dovrebbero essere tutti no tutti i giorni ci sono 25 25 pacchettine 25 leve no non era così ma non in tutti i livelli abbiamo trovato guarda la nostra pecora legge è una pecora intelligente guarda come legge si si va più vicina vai perché non sono un legge non mi guarda a me vai a legge vai a legge si è offesa ma vai a legge ma lei chi ti dà noia? non offendere le pelle no ma guarda io saluto i ragazzi ci vediamo in prossimo episodio da mine mine maicene tutto linea dove sei linea dove sei perfetto posto vieni qua vai vieni qui vieni qui ti tiro le uoche no no io vado il figlio vado il figlio linea allo studio ciao ragazzi dai iscriviti a colonale dai tu iscriviti dai mari 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 ciao tu iscriviti e aspetta